Buongiorno a tutti, questa mattina mi trovo presso il cimitero comunale, precisamente nello spazio antistante il nuovo impianto di cremazione, il terzo in Sicilia, perché durante questa settimana sono state già cremate quattro salme. Quindi ho pensato bene di venire a parlare con gli impiegati, gli addetti ai lavori, i preposti, nonché con diversi cittadini che frequentano spesso questo luogo sacro per venire a trovare i propri cari. E non risulta assolutamente che ci siano fumi neri tipo Auschwitz, che ci siano odori sgradevoli, che ci siano resti di salme o di ceneri sui balconi, sulle cappelle gentilizio in mezzo alle strade. A dimostrazione che nella vita chi semina vento raccoglie tempesta, a dimostrazione che nella vita le bugie hanno le gambe corte, a dimostrazione che nella vita ciò che premia e fa la differenza sono le competenze, l'onestà è l'onestà intellettuale e anche e soprattutto la lungimiranza di un'amministrazione che ha realizzato un'opera che è un fiore all'occhiello per il centro Sicilia e che rispetta tutti i parametri previsti dalla legge. Quindi anche questa volta i risultati ci danno ragione. Buon vino di settimana a tutti!